Dopo una lunga malattia si è spento a Roma, Adriano Fabi, 77 anni, figura iconica nel mondo della musica italiana, celebre come manager, produttore e artista poliedrico. Adriano è stato il manager di Renzo Arbore, ed è stato il fratello del rinomato produttore Claudio Fabi. Sio del cantautore Niccolò Fabi e marito di Sabina Arbore, sua cognata Renzo Arbore, Adriano Fabi è stato una presenza affabile e ironica nell'ambiente musicale. La passione smisurata di Adriano per la musica si è manifestata attraverso la realizzazione di tour internazionali con l'orchestra italiana di Renzo Arbore. Non solo manager, ma anche creativo, ha contribuito a sigle televisive di successo come quella di Fantastico 6. La sua vena comica ha dato vita a canzoni indimenticabili come la divertente fatti più in La delle sorelle bandiera. La sua gentilezza e la sua musica rimarranno sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie, ci vediamo nel prossimo video.